Roberto Quartaroli, quanti ricordi? Qui, in questa scuola, qui all'Aquila? Sì, sì, è molto bello, infatti è una coincidenza molto bella. Ho fatto anche io qui le scuole medie, quindi è un grande piacere poter essere qui in questo evento a rappresentare. Poi il rugby è una tradizione molto aquilana, tu hai spiccato il volo proprio da qui fino ad arrivare in alto, dove sei adesso. Sì, sicuramente, ho iniziato all'Aquila all'età di circa sei anni, poi è stato un amore, ho continuato, ho scelte di vita ovviamente in base al rugby e grazie al quale ho avuto la possibilità di togliermi sicuramente delle soddisfazioni e anche imparare tantissimi valori. Dal tuo osservatorio privilegiato, oggi con le fiamme oro rugby, come vedi la realtà aquilana? Beh, io hanno fatto quest'anno un campionato molto difficile perché hanno avuto dei problemi, diciamo, ma è una città questa che, bisognamente parlando, non cade mai e quando cade, se capita, si rialza sempre. C'è una grandissima passione e tanta voglia dietro di tenere in alto il rugby in questa città e auguro che le cose vadano sempre meglio. Ecco, Roberto, scuole aperte allo sport significa trasmettere ai ragazzi più giovani i valori giusti. Lo diciamo spesso, però queste sono iniziative concrete che provano a farlo. Sì, sì, certo, sono importantissime. Secondo me ci dovrebbero essere ancora di più perché è fondamentale. Io, come ripeto, ho iniziato da piccolo a giocare al rugby, grazie ai miei genitori che mi hanno portato, ma se avesse avuto l'opportunità di avere più persone nella scuola che mi avessero appunto avvicinato allo sport, sarebbe stato ancora più facile. Ecco, magari tanti ragazzi che potrebbero farlo, non hanno questo input da parte appunto nostra, di quelli più adulti, poter far capire quanto è importante farlo. perché oltre all'aspetto fisico, l'aspetto dei valori, del comportamento e del carattere ti forma lo sport.